Dopo i sei quintali di rifiuti raccolti in poche ore domenica 9 maggio nelle zone da Via Tramello fino a Piazzale Milano, dagli oltre 100 volontari che hanno preso parte alla prima giornata di Pugliamo-Piacenza, e dopo i dieci quintali raccolti tre settimane dopo tra Viale Malta, il Faxal e la ciclabile di Via dei Pisoni, torna domani il terzo appuntamento della iniziativa dedicata alla difesa dell'ambiente che ci circonda, promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Lega Ambiente, Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Piacenza e con l'aiuto di IREN, una iniziativa che nelle due tappe precedenti ha fatto registrare larghi consensi a testimonianza del fatto che a fronte di comportamenti di inciviltà c'è una grande risposta di numerosi cittadini che amano l'ambiente, la propria città e desiderano vivere in uno spazio pulito e decoroso. La chiamata, come sempre rivolta a tutti quanti e abbiano nel cuore il desiderio di contribuire in modo attivo a difendere l'ambiente che ci circonda è per domani alle 10 in Via Stradiotti davanti al McDonald's. L'iniziativa, dopo questa prima tranche di incontri, si metterà in pausa per ripartire in autunno con nuove date che coinvolgeranno anche i luoghi della provincia più bisognosi di intervento.